Un tesoro talmente grande da non poter essere valutato. Case, ville, palazzi, interi condomini, fabbriche, aziende, auto, barche ed elicotteri. Beni confiscati alle mafie e passati nelle mani dello Stato. Un patrimonio impossibile da stimare con precisione, ma che nel suo complesso vale miliardi di euro. Una fortuna difficile però da gestire. La prima destinazione di questi beni sono le istituzioni pubbliche, regioni, comuni, forze dell'ordine, oppure Onlus, come avvenne per la Villa degli Schiavone a Casal di Principe, quella con la doppia scala in stile Scarface, oggi diventata centro di eccellenza per la cura e l'assistenza di bambini affetti d'autismo. Sono oltre 20.000 gli immobili strappati alla criminalità e affidati alla comunità, ma ce ne sono quasi altrettanti, più di 16.000, che ancora attendono una destinazione. E trovarla non sarà facile. Molti, col passare degli anni, sono andati in rovina, come uno stabile sul lungomare di Reggio Calabria, appartenuto ad un boss dell'Andrangheta, o una cascina in Lombardia di oltre 2.000 metri quadrati, che presto potrebbe essere abbattuta. Casi purtroppo non isolati, nonostante l'impegno dell'Agenzia Nazionale creata appositamente per gestire questi patrimoni. Ma le procedure sono inevitabilmente lente. Decine i controlli da fare prima di concedere il bene, e poi non sempre gli enti destinatari hanno i fondi per gestirli. Occorrevano 30 milioni di euro, ad esempio, per recuperare gli alloggi di una gigantesca area confiscata ai casalesi nel Casertano. I lavori, dopo anni, ancora non sono cominciati. Verranno proposti circa 2.000 immobili, stimati oltre 100 milioni di euro. Cifre da capogiro, anche se più del loro valore economico è quello simbolico che conta. Rappresentano infatti la vittoria dello Stato sulle mafie. Anche per questo è una ferita vederli andare in rovina.